ieri vi abbiamo proposto il milk più di casa diamond oggi ho il piacere di proporvi un altro prodotto liquido della stessa azienda altrettanto però innovativo e mai visto sul mercato prodotto da altre aziende parliamo di malt extract in pratica l'estratto di malto questo prodotto si ottiene concentrando il mosto ottenuto da una serie di cereali in particolar modo orzo e frumento è un prodotto poco utilizzato come diciamo nel car fishing ma tuttavia è in grado di donare una grande attrazione sia aromatica che gustativa al nostro mix la dose consigliata è di 30 70 grammi per chilo attenzione parliamo sempre di dosi consigliate non massime perché sono prodotti totalmente naturali per cui non si va nel rischio di solo addosare e creare danni al pesce che ingerisce la nostra esca un consiglio posso darvi è quello di utilizzare malt extract anche durante la cottura di altre esche come possono essere granaglie come maest tiger fagioli o ceci ottimo anche come dip sia utilizzato come base sul quale poi aggiungeremo anche una linea aromatica a nostro piacimento ma anche come bite dip in maniera diretta ovvero immergendo direttamente le esche al suo interno mettendolo in un barattolino e lasciando le esche allora in al suo interno per 12 24 ore tempo necessario affinché la boyle si possa assorbire il prodotto prodotto di prima qualità come vi dicevamo non abbiamo bisogno di presentare dia di a un bite nuovamente conoscete già molto bene la qualità di questi prodotti vi consigliamo di prendere in considerazione questo prodotto nello specifico per i vostri mix in quanto è veramente un prodotto all round è utilizzabile su qualsiasi tipo di mix e rende veramente molto efficaci le nostre esche in maniera totalmente naturale